Il mondo del futsal è in pieno fermento per la prossima stagione. L'avvio dei campionati è previsto per la prima settimana di ottobre, ma il calcio mercato impazza tra le società della massima serie e del torneo di A2 Elite. Umberto Caruso, bomber campobassano, reduce da una super stagione con la maglia del Pescara in A1, è vicinissimo all'Ecosity di Genzano. La società laziale, neopromossa nella massima serie nazionale, ha cercato fortemente il pivot classe 93 e l'accordo sembra ad un passo, anche con una formula biennale. A Genzano, Caruso troverà Matteus Barichello, una coppia pronta a far scintille sui palcoscenici nazionali. Sempre in Serie A1, mister Fausto Scarpetti è di fatto il nuovo allenatore del Pesaro. Il coach Cisernino approda nella società italiana con più titoli. Negli ultimi dieci anni, nonostante l'ultimo torneo non sia stato dei migliori, il team marchigiano è pronto a rilanciare le ambizioni. A Scarpetti il compito di risollevare il Pesaro dopo la salvezza ottenuta negli spareggi play-out. Attivissimo il CLN Cusmolise, sia sul fronte delle conferme che a livello di nuovi acquisti. La società è pronta ad affrontare nel migliore dei modi il nuovo campionato, la Serie A2 Elite. La programmazione è sempre stata un punto forte del Cusmolise, che sta gettando le basi per il torneo che prenderà il via tra circa tre mesi. Proseguono le conferme dei giocatori che continueranno a difendere la casacca del Molise nel secondo torneo italiano di Futsal. Anche il portiere Luca Mariano ed il giovane laterale Nathan saranno a disposizione di Sanginario nella nuova stagione. Sul fronte acquisti, Lucas Bocca, ex Sala Consilina dove è reduce della doppietta Coppa Italia e promozione in A1, è un nuovo giocatore del Cus. Il player brasiliano centrale classe 94 è di grande esperienza nella sua carriera. Ha giocato in Italia con il Salinis, il Bernalda e il Real San Giuseppe. Con quest'ultima società ha calcato i palazzetti di Serie A1. Un rinforzo importante per il tecnico campobassano, che potrà avvalersi delle prestazioni di un giocatore affidabile, di qualità, bocca e sicuramente un colpo da 90 messo a segno dalla società. Il mercato non si ferma qui, il Cus è vigile per chiudere un'altra operazione di assoluto livello.